Preannunciavo prima con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Onorevole Meloni, grazie, le devo dire due volte grazie perché l'abbiamo letteralmente sottratta degli impegni familiari. Però volevo, ecco, ci tenevamo molto ad acquisire il suo punto di vista perché Fratelli d'Italia è sicuramente una delle novità più importanti del panorama politico considerando gli ultimi mesi, insomma, è cresciuta tantissimo. Allora, intanto le volevo chiedere, faccio anche a lei la domanda che ho fatto agli altri leader politici, nella conferenza di capigruppo del Senato la vostra, diciamo, posizione ufficiale quale sarà lunedì 12 agosto? Ma guardi, la nostra posizione ufficiale è abbastanza scontata perché noi abbiamo questa, diciamo, buona creanza di dire sostanzialmente sempre la stessa cosa. Noi speravamo in una crisi di governo, siamo davvero arrivati all'ultimo momento utile ma c'è ancora un momento utile per tornare a votare, per consentire che gli italiani possano dare un mandato forte a un governo nuovo, a una maggioranza nuova, forte, coesa, con numeri che non solo sulla carta ormai perché li abbiamo sperimentati anche in elezioni, come quelle europee, potrebbero essere estremamente importanti e dare all'Italia un governo capace di durare 5 anni, una cosa non scontata in un'Italia nella quale, appunto, come vediamo da queste ore, insomma, l'instabilità è un enorme problema anche nella nostra capacità di, diciamo, difendere gli interessi nazionali nei consessi internazionali. Quindi noi siamo di fronte a una grande occasione, la posizione di Fratelli d'Italia banalmente sarà si faccia il prima che si può, si vuole parlamentarizzare la crisi, si vuole portare la crisi in aula al Presidente Conte e legittimamente chiede che si esprima il Parlamento, a noi va bene, si faccia il prima possibile, i nostri parlamentari sono già allertati, sono pronti, disponibili e noi ci siamo. L'importante è che si torni a votare il prima possibile, compatibilmente con le scelte che farà il Presidente della Repubblica. Senta, lei teme che in questa gestione parlamentare della crisi ci sia da parte di qualche partito la tentazione di allungare un po' il brodo per scavallare il periodo dell'autunno e portare inevitabilmente poi il Paese alle elezioni almeno nella primavera del 2020. È un timore che lei ha questo? Ma guardi, è un timore anche abbastanza fondato dalle dichiarazioni che alcuni partiti hanno fatto nelle ultime ore perché, insomma, si stanno proponendo delle cose francamente un po' surreali, in particolare la proposta del Partito Democratico di anticipare la sfiducia al Presidente del Consiglio Conte con la sfiducia al Ministro Salvini. Adesso dico, al di là del merito, scusate, ma non si è visto da che mondo è il mondo in nessuna parte proprio della storia della politica che di fronte a un Presidente del Consiglio sfiduciando, si anticipi la mozione di sfiducia individuale a uno dei suoi Ministri. C'è solo un caso, mi scusi, Giorgino, in cui questo abbia un senso. E il caso è se il Partito Democratico intende tenere in sella Conte. Cioè, se il Partito Democratico intende tenere in sella questo Presidente del Consiglio ha un senso che chieda la sfiducia di uno dei suoi Ministri che poi salvi il Presidente del Consiglio e faccia un'altra maggioranza. Ma altrimenti non ha alcun senso. Quindi io, diciamo, che a pensare male, come si dice, si fa peccato, ma non sempre si sbaglia. Io qualche domanda me la faccio, francamente. Ci sono delle cose che non mi stanno convincendo. Esattamente come sul Movimento 5 Stelle, che si concentra molto sul tema del taglio dei parlamentari. Guardi, lo dico, diciamo, con l'orgoglio e la forza di chi ha votato il taglio dei parlamentari dall'opposizione. E Fratelli d'Italia, talmente è stata chiara su questo tema, che il Movimento 5 Stelle glielo potrà confermare, mi hanno telefonato per ringraziarmi. Perché a parte invertite, loro probabilmente non avrebbero fatto la stessa cosa. Fratelli d'Italia ha votato convintamente il taglio dei parlamentari. Risulta anche a me questa cosa. Perfetto. Noi abbiamo votato convintamente il taglio dei parlamentari, perché è una cosa giusta. Lo abbiamo fatto senza chiedere niente. Abbiamo preso e abbiamo votato. Però attenzione, perché il tema del taglio dei parlamentari, riforma nella quale io credo che si può fare anche con un nuovo Parlamento, non può neanche essere l'alibi per tenere in sella mille parlamentari, dei quali oltretutto il 70% è mediamente stato sfiduciato. Perché non ci nascondiamo dietro il fatto che oggi buona parte dei parlamentari che siedono in Parlamento, segnatamente quelli del Movimento 5 Stelle, considerato i numeri che avevano un anno fa e i numeri che hanno avuto nelle ultime europee e i numeri ancora peggiori che hanno secondo i sondaggi, insomma non è che siano esattamente ben visti attualmente dal popolo italiano. Lo dico perché ascoltavo un pezzo dell'intervista di Buonafede che parlava di tradimento. Attenzione, perché in realtà gli italiani stanno chiedendo da mesi un'altra maggioranza possibile e di rappresentarsi con un altro governo. Senta, onorevole Meloni, un'ultima domanda e poi lasciamo anche lei i suoi impegni familiari. Ecco, le prospettive future, lei l'ha detto chiaramente in queste ultime ore, serve la costituzione di un polo sovranista, quindi di un governo con la Lega. Salvini, adesso siamo in attesa di sapere che cosa ci dirà in diretta qui allo speciale TG1, però insomma ieri Salvini ha detto io vorrei mettermi in gioco da solo, quindi chiedo agli italiani il consenso per poter essere in qualche modo autosufficiente. Mi pare di capire che lei fa una partita anche completamente diversa da quella di Forza Italia, insomma che sicuramente c'è una compatibilità maggiore anche per un fatto generazionale, per il codice linguistico che lei ha utilizzato, la narrazione pubblica, i contenuti tra lei e Salvini. Quindi che cosa c'è dietro l'angolo, come si sarebbe detto un tempo? Ma guardi, secondo me c'è quello che gli italiani vogliono e si aspettano. Quello che gli italiani hanno detto senza timore di smentita in tutte le elezioni dell'ultimo anno e quello che dicono attraverso i sondaggi è che ci sono solo due partiti che crescono. E quei partiti sono la Lega e Fratelli d'Italia. Sono due partiti compatibili per visione, sono due partiti alleati chiaramente in molte realtà e io penso francamente che l'opzione della Lega che corre in solitaria sia un'opzione per ora più giornalistica che altro. Nel senso chiaramente comprendo che diciamo di fronte alla forza, all'autosufficienza si possa anche essere tentati. Però obiettivamente non avrebbe molto senso che di fronte all'occasione storica di fare quello che le dicevo prima, cioè dare all'Italia un governo che può fare delle riforme coraggiose, se vogliamo politicamente scorrette, che può difendere l'interesse nazionale italiano, che può difendere l'economia italiana, che può difendere i confini italiani, che può difendere le sue famiglie, beh si scelga di rischiare di avere un altro Parlamento senza maggioranza. Io escludo francamente, per come anche conosco Matteo, che alla fine si scelga una strada di questo tipo, penso che molti italiani non lo capirebbero. Noi veramente abbiamo un'occasione storica e penso che alla fine si coglierà, ecco, con l'intelligenza che poi i politici hanno e devono avere, si coglierà questa occasione e si ascolterà anche quello che i cittadini stanno chiedendo. Grazie molto, onorevole Meloni, grazie per essere intervenuta a questo speciale. Arrivederla. Allora, in diretta da...